In questo episodio, la prima linea di prodotti di Zara, pensare per i capelli, molto fica, poi riprende la squadra di New York di calcio, stavolta molto molto interessante, un concept di smartphone per persone ipovedenti e cieche, succoso vediamo un po', un giochino nascosto nei DM di Instagram, vi piacerà, spazzo, poi finalmente Breccia, inquadra un attimo Breccia, si incazzerà con i nuovi CMF, le Airpods e il nuovo Nothing Phone, ne parliamo assolutamente dopo, una doccia tecnica di cui anni ci parlerà anche meglio, Robastana si abbassa e si alza, cos'è bizzarre, interessante, poi il motivo per cui i vostri computer non hanno i tasti minuscoli, guardate adesso mentre parlo, guardate che i vostri tasti sono solo i minuscoli, interessante, e infine la borsa fatta d'aria lanciata da Coperni, quella della settimana, e poi qualche meme su Biden. Buongiorno! Buongiorno! Come state? Io bene, sono stato in Islanda, e ve lo dico a tutti. Aspetta che me lo segno sul tacchino del cazzo che me ne frega. Sono abbronzato, non è vero, non ci sia abbronzato, per niente, va bene, va bene, allora mi siete mancati, non è assolutamente vero neanche questo. Breccia, partiamo a nastro. Ah, subito? Allora, stavo navigando il sito di Zara quando all'improvviso è apparso un nuovo logo, Zara Air, però è apparso proprio tipo messaggio subliminare per pochi secondi. Davvero? Sì, davvero, davvero, davvero. Sono andato nelle impostazioni, nell'hamburger menu, e ho trovato effettivamente questa nuova categoria, Zara Air. Fondamentalmente si sono buttati nel settore beauty, healthcare, roba del genere. E di per sé, chi se ne frega se non fosse, che la linea è veramente figa esteticamente. È vero, concordo. È molto, molto figa. È molto, molto figa. Che carino. Allora, sicuramente il fatto, non credo che sia una novità, che brand di fast fashion, o comunque brand che si occupano anche di reselling di altri prodotti, ma penso che anche H&M abbia, non so, una sua propria linea di beauty, di qualche genere, no? Sì, sicuramente, di profumi, di... Però come diceva, c'è giustamente questa linea qui, in effetti, specificatamente per i capelli, in effetti è abbastanza, chiaramente molto minima, è un packaging molto potente, molto fico, non saprei commentare altro, in realtà, penso sia totalmente in linea con quello che Zara sta facendo come brand generale, insomma, sul punto di vista comunicativo, quindi tagline molto grandi colori pieni abbastanza brutale abbastanza minimalista mi piace molto questo blu col giallo che sembra un po' off paletti però bella roba e quel brutalismo tipico di Zara contro estetico antifunzionale nel senso che vediamo qua le cose che si fanno di solito quando progetti un'etichetta di un contenitore è separare le varie informazioni per renderle più leggibili quindi magari le istruzioni le metti da una parte il quanto quanto liquido c'è dentro tipo i millilitri da un'altra parte qua tutto incompattato però esteticamente è forte esteticamente fa la sua figura stessa cosa viene la stessa logica la troviamo sul sito che effettivamente è veramente poco navigabile però ti dà questo percepito di quasi alta moda perché proprio negli anni hanno deciso di spostarsi hanno aumentato i prezzi hanno comunque cercato di differenziarsi rispetto agli altri brand magari della stessa della stessa casa si è nella stessa categoria di brand quindi appunto noi siamo H&M siamo Bershka non so quegli amici là tendenzialmente si amici del gruppo esatto bella roba dai ha senso ha senso quello che sta facendo complimenti non aggiunge proprio niente di nuovo se non un prodotto che hanno ribrandizzato e messo dentro i negozi perché venderà e c'era il bisogno che vuol dire non aggiungere niente di nuovo non comunica proprio niente cioè banalmente sono molto più interessanti tutte le linee di cosmetica che stanno uscendo di influencer e di nuove anche tutti i prodotti della skin care coreani tutti i nuovi brand sono sicuramente molto più interessanti non sono d'accordo e comunque ti invito a ricordarti che stiamo parlando di ti invito a vabbè a ritornare al benchmark quello che comunque trovi sugli scaffali della guarda che adesso è altissimo agli scaffali del supermercato non trovi prodotti così curati poi magari una linea di prezzo diversa specialmente su questo settore mercologico però Nanni secondo me sta spumaricci eccetera la spuma per i capelli tutta questa roba di capelli alla fine ci sono tantissimi brand molto più rilevanti sono campionati diversi questo è il campionato che dici tu quanto costano? 3 euro 15 euro però sono in linea questi prodotti costano così quindi ci sta sì appunto non c'è niente di utile se non un altro prodotto da aggiungere nel carrello che giustamente loro vai da Zara ti trovi pure la spuma per i capelli l'hanno fatta fare sicuramente è uno studio molto no dico studio molto figo perché il packaging è figo anche l'etichetta quello stiamo parlando di quello stiamo parlando della visione di Zara di quanto ci piace io da questi brand così grandi da questi colossi mi aspetto che facciano un minimo di passaggio di utilità nel mondo e invece Zara continua a mettere spazzatura vabbè mi sembra un po' eccessivo però tuttavia a me sembra totalmente in linea con quello che è un altro brand andiamo avanti con cose più belle di questa incredibile oltreceano ancora in America l'anno scorso settimana scorsa abbiamo parlato del rebrand degli LA Clippers quindi NBA stavolta invece calcio soccer come dicono da quelle parti la squadra la squadra di New York New York City Football Club fondamentalmente irrilevante nel contesto calcistico generale ovviamente però in America che sta facendo molta attenzione allo sport in particolar modo al calcio negli ultimi anni questo rebrand qui arriva su quell'onda la di crescita del calcio per l'appunto in America e la squadra di New York ha fatto questo rebrand di fatto non è un rebrand del logo perché questo qua è riprogettato nel 2014 quindi dieci anni fa ma è un rebrand dell'intero ecosistema visivo che devo dire ragazzi è un progetto bellissimo mi sono eccitato proprio a vederlo e a scrollarlo tutto a capirlo un po' tutto l'agenzia è Gretel una di quelle agenzie che dovete mettere nel bookmark agenzie Fiche insieme a tante altre che abbiamo sempre menzionato tipo design studio tipo Koto e molte altre questa qui lavora con progetti giganteschi questo è uno di questi perché mi piace tantissimo perché in effetti magari perché sembra banale in verità perché magari il calcio non è appunto una cosa grossa in America non è una cosa grossa a New York probabilmente quindi si sono potuti permettere di fare questo lavoro un po' di da scalico se vogliamo di lavorare con la città con i colori della città con le forme della città questo vuol dire che la typeface che è venuta fuori realizzata appunto super custom prende le forme dalla typeface della metro degli anni 40 quindi si muove da quella questa cosa è molto bella perché è molto romantica dà un'accezione proprio di vicinanza alla città cosa che per esempio adesso senza hating non ho visto fare né a Inter né al Milan perché probabilmente sono cose che in Europa sarebbero banali probabilmente perché col calcio lavorare città calcio è una cosa molto semplice in verità però oltre a questo c'è un sistema tutto di icone fighissimo e in più una cosa bellissima che mi fa impazzire la palette pure è tutta giustificata ecco il progetto è ben raccontato vi dico anche questo tutta la palette è giustificata da cose che appartengono alla città quindi il colore viola del treno che va all'altro stadio il copper green della salute della libertà eccetera eccetera l'altra cosa molto figa è questo pattern che possiamo vedere in realtà in alcune di queste immagini qua anche che non è altro che un trattamento diverso che è stradato alle immagini dei 5 quartieri di New York c'è un video in cui viene mostrato un pixelato però in realtà è un filtro 5 quartieri che vengono trattati con questo pixeled e poi mesciati insieme in questo clash di colori molto bello devo dire bello perché effettivamente racconta la città e ti collega veramente a New York chiaramente in maniera neanche troppo esplicita però veramente la typeface mi fa impazzire è molto bella e poi portano la città nel appunto nel calcio cioè un po' un tributo alla città un po' a dire se sei di New York tifi New York esatto che è una cosa appunto non banale in America qua è ovvio che il Napoli cioè il napoletano ti fa Napoli quello di Milano ti fa Inter o Milan però l'appartenenza alla città in Italia in Europa in generale si sente molto di più nel calcio invece qui è proprio un invito cioè un'apertura alle porte dei cittadini non si può dire non l'ho manco detto in italiano è un'apertura delle porte verso i cittadini ci interessa esatto è vero molto bene se dici bene crea un po' quel friccino quell'invito quell'invito anche perché identità costruite bene su squadre di uno sport minore sicuramente aiutano a creare quel legame con la squadra e con lo sport sta quello là che ha scritto come il calcio è uno sport minore beh in America è uno sport minore non dove no però lui l'ha decontestualizzato ah scusa scusa e ha detto calcio sport minore è lo sport ci sono giocato al mondo nazioni il calcio è decisamente lo sport minore tipo gli Stati Uniti tipo gli Stati Uniti esatto soccer quindi quindi bellissimo progetto e in più vi ricordo vi invito a salvarvi Gretel molto bello mi ricordo un po' troppo il Manchester City però bello ma sono tornati il font un po' condensed perché anche Zara prima abbiamo visto che ha Zaba ha il font un po' così allora posso dirti che navigando un po' e lavorandoci un po' posso dirti che sicuramente la tipografia sta diventando sempre più centrale in tantissimi progetti di branding più della grafica insieme cioè la tipografia è un elemento grafico cioè totalmente parte della cosa quindi creare custom type tipo questa qua che sono estremamente grafici comunque cioè questo font qui è molto grafico cioè delle grazie estremamente grafici e dei tagli molto grafici è un'accezione che si sta trattando tantissimo e ti direi in generale la tipografia è un trend molto grosso e anche le palette colori stiamo vedendo palette colori molto più rilevanti all'interno del brand e meno casuali su questo sito qua o comunque esatto questa font qui ha due versioni questa la versione più slanted questa qua più che dici tu più allargata local express puoi parlare in italiano è condensed noi siamo così parliamo questo qui è condensato ragazzi veramente un progettone bravi bellissimo super figo molto bene Nanni dici di questo invece sentiamo un po' sentiamo un po' è uno smartphone su Gianco Desanne è un altro sito che possiamo consigliare come bookmark perché appunto è uno di quei siti dove vedi la gioventù cosa pensa esatto è molto legato a progetti comunque universitari quindi è sempre bello vedere quali sono le esigenze facilmente riconoscibili perché di solito un progetto universitario si basa su quello cioè devi trovare un'esigenza e di solito vai a trovare quelle più non banali serbi dispregiativo però più palesi e qui appunto loro si sono chiesti come fare uno smartphone un telefono per ciechi ne deriva un progetto universitario quindi di studenti molto interessante perché appunto cambia l'interazione con un oggetto che diamo per scontato è figo cioè ci sta cambia totalmente perché effettivamente non ha senso avere uno schermo ma ha una forma totalmente diversa andatevelo a vedere perché più che questo oggetto andrebbe fatto così ma questo modo di pensare è molto sano mi piace al progetto al trovare un problema e provare ad approcciarlo con l'ingenuità appunto già l'abbiamo ripetuto con l'ingenuità che può fare uno studente vorrei ricordare che abbiamo deciso di dare spazio a progetti di concept come questi che troviamo online ma che potete anche benissimo mandarci se ci lavorate voi perché appunto sono trigger per cose ovviamente cose del genere magari non andrò mai in commercio non è importante che sia vendibile come cosa l'importante di questi progetti è chiedersi se siamo a posto su alcune robe o se ci bisogna di pensare un po' è una rappresentazione di una modalità di pensiero esatto in questo caso magari lui ha detto il signor eslam shafik designer appunto ha pensato un cieco gli serve lo schermo no minimamente quindi magari si emette questa specie di non so neanche come chiamarlo coso alla mano è un arnese alla mano è troppo complicato da spiegare di discone è un wearable è un wearable per la mano esatto per la mano un mouse un mouse gigante un telefono circolare da mettere sulla mano è molto bello è che ti dà le informazioni che tu magari puoi tappare o interagisci con quello perché ti dà così non ti sembra niente uno schermo giustamente magari alleai insieme tu ci parli con e ti aiuta a fare le cose effettivamente questo tipo di ragionamento qua sul form factor di smartphone e accessori per persone che non possono avere accesso magari in qualche modo con disabilità con disabilità è interessante quindi benvenga quindi ricordo anche se avete cose che avete fatto e volete ne parliamo insomma mandateci volentieri e ci facciamo un'analisina molto bella a questo punto cosa velocissima molto stupida ragazzi questa farà impazzire tutti quanti quelli all'ascolto internet ragazzi ho scoperto questa cosa meravigliosa stupidissima meravigliosa andate su non fa vedere niente fate così prendete il telefono ok andate su instagram perfetto andate nella chat nei DM da un vostro amico ok prendiamo un vostro amico una persona che potete rompere le palle mandategli in DM un emoji qualsiasi prendete l'emoji solo l'emoji una sola e la mandate a qual punto mi seguite lo state facendo perfetto andate sull'emoji e cliccate una sola volta l'emoji che avete mandato che è quella una volta cliccate l'emoji si aprirà un giochino nascosto su instagram ragazzi molto divertente che vi permetterà molto divertente un giochino molto molto stupido che vi permetterà di giocare con queste emoji a una specie di arcanoid sostanzialmente con la stessa emoji Nani fa vedere magari hanno hanno mandato l'emoji sbagliata hanno mandato vediamo ah guarda con quell'emoji lì ho perso ha perso e poi game over perfetto magari hanno mandato l'emoji del dito medio e giocare col dito medio eh no però l'altro ricevuto eh vabbè per quello vi dico fatelo con persone che o non vi cagano di pezze mandatelo a Fedez per dirvi no per dire intanto non mi incurerà mille la mente e poi è bello perché fa vedere fa vedere fa vedere è il notch del come si chiama l'island 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 esatto la dinamica bene mandatelo ai vostri amici più cari un easter egg un easter egg giochino divertente perfetto breccia boh finalmente li puoi arrabbiare oh vedevo l'ora di questo momento allora fondamentalmente eh hanno presentato ma io non capisco perché si deve arrabbiare lo sto tringerando da giorni allora cosa è successo cosa è successo allora hanno presentato eh CMF il brand laterale di Nothing ha presentato delle cuffie sono molto originali dobbiamo dire dobbiamo essere onesti sono nuove come forma diciamo abbastanza e una di queste cuffie ha un chietto che non ha alcun alcun ruolo se non adesso facciamo vedere un video nascondere il foretto per mettere il laccio vediamo c'è il video qui no non c'è da mobile non c'è vabbè comunque altre cose interessate avete visto che sul sito c'è sempre scritto vedi C orange colore M material PC EBS metal F finishing molded vabbè comunque se riesco a fare vedere il video però non c'è sono così sono vedi sono allora fondamentalmente quello è il problema non è il problema che volevo triggerare breccia era che questo robino qui che vediamo cioè il cerchietto lì non ha alcuna funzionalità mi viene ok voglio triggerarti quel robot se tu dovessi vedere questo questo affare qua tu ti mettetevi nei panni di vedere questo per la prima volta questo case ok tu vedi questo case e ti aspetti che quel coso questo bollino questo cerchio faccia qualcosa sia un perno non lo so tu giri la case così sembra un punto di perno per aprirlo sto dicendo magari ovviamente questa cosa non succede di fatto è una cosa possiamo dire meramente estetica lo è lo è assolutamente no la confusione si crea per il fatto che qua sembra essere semplicemente una cosa che gira e mostra il foretto per rimettere un foro per mettere dentro l'accettino è totalmente no sense perché quel foro potrebbe essere potrebbe rimanere esposto totalmente la confusione si crea con le altre cuffie che invece hanno questo cerchietto che diventa effettivamente un elemento estetico ma qua è funzionale qua lo ruoti e cambia il volume e schiacci cambia modalità e quindi hanno un elemento che si ripete in due prodotti diversi ma fanno due cose completamente diverse ok allora dimmi commentami questa no 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 io sono allora nel mondo del prodotto industriale effettivamente sono d'accordo con loro sul fatto che si assomigliano tutti e quindi proporre qualcosa anche meramente estetica di per sé va bene noi che abbiamo ah fate cagare va benissimo però scusami allora sono io che mi arrabbio però a me però non torna il fatto che tu stai creando un elemento di distinzione e questo è meraviglioso a me piace moltissimo l'estetica di CMF in Africa eccetera però non hanno lo stesso linguaggio in due prodotti diversi non sono uguali per carità però sono due rotelle ok che fanno due cose diverse su prodotti della stessa linea sono lo stesso prodotto in due versioni praticamente le prime sono buds wireless e le altre pure però hanno il laccetto fondamentalmente non so come si chiamano però è un linguaggio differente su prodotti uguali e questa cosa non mi fa impazzire dire la verità cioè perché non sono d'accordo sono comunque simili è un modo di inserire un elemento distintivo loro stanno facendo a questo punto dell'arancione del colore quindi hanno arancione come colore di punta main poi abbiamo il bianco e nero che quindi è cadi nel nel generalista quindi bianco e nero su tutte le buffe l'arancione l'oro diciamo accent color che vanno ad utilizzare quell'elemento circolare argentato è chiaramente l'elemento che loro utilizzano per distinguere una volta diventa un un nab come si chiama una 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 ghera una rotella per regolare il volume un'altra volta invece diventa una rotella per esporre il buco dove metti il laccetto per portarti le cuffie attaccate alle chiavi come un portinaio esatto però onestamente non ci vedo niente di anzi lo vedo un bel elemento distintivo che che è figo dai ci sai è figo non è figo solo che non fanno la stessa cosa crea un po' di confusione sul linguaggio e vabbè c'era c'era effettivamente qualcosa che non mi piaceva ma non non la riesco a trovare quindi va bene così non ci sarà rabbia in questo ma prima di parlare del nothing 2a che è uscito questa settimana so che state brulicando tutti quanti per sapere ci avete scritto in molti dobbiamo parlare del nostro retro bottega altrimenti Sam che di fronte a me qua mi sta obbligando la settimana a parlare dei nostri prodotti meno male meno male stiamo vedendo guarda vi faccio vedere il nostro lanyard trovate su retro bottega di caffè design una miriade di cose nuove se siete persi abbiamo lanciato diversi cappellini questo lineard qui l'altro lineard quello lì a doppio gancio tornerà in anni tornerà presto tornando c'è il cappellino d'airline ci sono i poster anche questi molto nuovi guardate sui poster ragazzi voglio pensare ragazzi stiamo fuori uno ragazzi questi poster sono in A3 altra cosa che mi ci vengo a menzionare la cornice che vedete nelle immagini sapientemente fatto Mitch non è in vendita e non esiste nemmeno mi dispiace dirvelo è un meraviglioso 3D la cosa che voglio far vedere te le vendi da tipo senti senti fai un asmo della carta raga questa carta parla cioè questa carta parla è stata accuratamente selezionata devo dirlo onestamente in una giornata intera dagli esperti della qualità esatto per trovare quella giusta questa è bellissima bellissimo risultato l'altro è una carta indistruttibile molto spessa molto materica ci sono quattro poster in più abbiamo anche i bundle siamo diventa di come gli e-commerce veri adesso quindi andate a comprare adesso vi do un secondo per aprire il link che trovate comunque qua sotto in descrizione però per le cornici poi ci sono le standard di Ikea è una 3 quindi qualsiasi cornice che alloggia una 3 da Ikea da Bricota questa qui rosa molto bella che ha fatto Mitch io non so se esiste purtroppo noi non la vendiamo per ora perché magari se la volete la facciamo però non saprei in questo momento non c'è e ci sono questi quattro poster in più liner cappelli andate ad acquistare e fatevi del bene mettete un po' di gioia nelle vostre case stanzette vai Breccia allora torniamo su Nothing allora hanno presentato sarò sarò veramente breve perché non voglio diventare troppo tech però fondamentalmente sempre con l'idea di diventare riconoscibili hanno presentato questo telefono che è di fascia abbastanza media medio-bassa che ha la fotocamera centrale che sembrano due occhietti e sull'idea degli occhietti ci hanno giocato perché hanno fatto dei teaser e questo qua secondo me diventa finalmente l'elemento lato camera che può essere riconoscibile che siccome è anche molto logico perché è simmetrico e centrale quindi qualora qualsiasi altro dispositivo Android che ne so di Google iPhone decidesse di fare la fotocamera centrale quindi proprio simmetrica in orizzontale così effettivamente potrebbe essere copiato da loro perché sono gli unici che lo fanno poi hanno aggiunto anche i tasti colorati cosa che aveva fatto già Google però sono tutti elementi che abbiamo detto più volte in questo mercato dove sono tutti simili aiutano effettivamente a a a farsi vedere ecco quindi bravi siccome è una un'altra cosa bella di questo telefono è che appunto occupa poi l'hai detto già la fascia media quindi non sono gli smartphone da una millata ma sono quelli da 350 quant'è? 350 quindi occupa la fascia di prezzo di tutti quei brand che però in questo segmento non ci mettono tanto di design tanta progettazione perché tutta la progettazione va nei flagship in quelli principali da mille va tutta la ricerca tutta l'attenzione spesso a detta di Carpay il founder di Nothing spesso quei telefoni che occupano la fascia da 350 di brand anche più famosi sono semplicemente dei white label che poi portano diciamo mettono il nome e hanno un prodotto per la fascia che gli manca quindi sono poco progettati invece loro hanno volevano inserire tutti i componenti di un flagship dentro sembra un po' la storia di Oneplus dentro un telefono di fascia medio-bassa secondo me ci riescono perché li rende appunto riconoscibile riconoscibile ha del della playfulness del gioco di tappo non sembra uno strumento quando compri un oggetto da 350 sembra che sei obbligato dal prezzo di dire io 850 euro per lo smartphone mi compro il meno peggio invece loro hanno voluto proporre un'alternativa dignitosa e figa quindi secondo me è una bellissima che poi hanno provato a fare pure con CMF lo stesso ragionamento secondo me è molto democratica come come approccio ed è anche ben consapevole delle potenzialità di nothing perché effettivamente andare a competere con Apple Samsung e questi colossi chiaramente non puoi giocare al loro gioco perché è un gioco che un brand come loro non può permettersi proprio economicamente esatto la cosa interessante chiaramente di questo brand è che a livello l'abbiamo detto più volte a livello di comunicazione lavorano molto bene hanno un canale youtube che è realmente un canale youtube non è solo uno adv sia pubblicitano dove vai a pubblicare le cose istituzionali è proprio un canale youtube sono molto aperti nella comunicazione super aperti quindi per esempio qua c'è appunto il fondatore Calpey che recensisce magari i leak che sono usciti del telefono parla risponde ai commenti oppure guarda i concept di telefoni finti di nothing quindi ci sono un po' di cose interessanti per esempio per e lo fanno questo tipo di comunicazione di campagna lo fanno ogni volta che lanciano dei prodotti particolari per esempio adesso hanno lanciato questo telefono hanno fatto una serie di video dove il CEO appunto reagisce ai commenti cattivi e quindi spiega anche il perché di alcune motivazioni progettuali oppure hanno chiamato un ragazzo giovanissimo che è un ragazzino che aveva mandato una letterina proprio all'azienda dicendo che è un grande fan e loro l'hanno ringraziato invitando regalandogli il telefono ma anche raccontandogli proprio tutto il processo di progettazione questo tipo di adv che non è un adv ma lo è è un modo di comunicare estremamente trasparente e nuovo che siccome è genuino è genuino fa la difenza nella percezione di un brand la difenza è assolutamente anche quello che cioè sembra che tutto quello che faccia nothing sia veramente per molto legato a tutto questo aspetto qui di design di comunicazione quindi anche il valore che danno anche al basso costo è normalmente ci faccio è fico cioè non perché un prodotto di basso costo deve essere brutto non c'è nessun motivo quindi fico magari non è performante è incredibile sti cazzi però almeno è fico è interessante chiaramente nothing e apple hanno un posizionamento completamente diverso però se facciamo il gioco immaginiamo gli stessi video fatti da apple sarebbero super interessanti tipo i designer che commentano le immagini che sono uscite su internet eccetera eccetera chiaramente hanno due pesi diversi quindi apple per adesso non lo può fare sia perché ha un tono di voce completamente diverso e sia perché se apple dice una roba poi è delirio scoppiata in guerra sicuramente hanno una responsabilità molto più grande però è bello che loro fanno il loro esatto loro lo possono fare sanno che possono farlo e lo hanno una cosa poi basta raga io odio questa typeface qua sul sito loro cioè sembra che sia scassato il sito ah non l'avrei mai detto sai pensavo che fosse una roba è proprio sbagliato cioè lo so che è fatta apposta per carità però mi sembra ogni volta che entro qua dentro non quella alla pixel quella lì che stava graziata quella graziata questa qui sembra che sia sembra che non mi legga il font il sito sembra una una type cioè un font di default del mi dà un po' fastidio che nervi madonna di riserva ma pensi pensi che sia faccio una domanda tecnica pensi che sia perché la utilizzano troppo o perché in generale è graziato non ti fa impazzire no allora io penso che io nel video che vi faccio vedere prima la utilizzo e quindi comunicazione sta molto bene io non credo che stia bene qui su questi visual qui perché questi visual qui sono effettivamente molto schiacciati e qua invece se non c'è questa cosa che proprio mi dà proprio no dice ma ti lancio il computer peccato a me perlomeno poi magari loro lo fanno apposta in questa sorta di io non sopporto invece questa puntinata questa puntinata è una roba va beh va beh ecco qua un altro prodotto per te mi avete lasciato i prodotti del merda no allora anche questo è un altro prodotto dedicato all'accessibilità che è una doccia fondamentalmente ne abbiamo parlato l'altra settimana scorsa di riprogettare questi oggetti che effettivamente quotidiani utilizzo ogni giorno questo gruppo di questo brand show si chiama ha progettato una doccia che permette di regolare l'altezza del del soffione o di tutto il meccanismo doccia e abbiamo problemi di connessione scusate non si sa che è successo in tutto metti il video grazie gentilissimo e include in tutto il corpo centrale tutti gli accessori relativi alla doccia quindi sia acqua sapone aria guarda che bello la signora che lascia i capelli è meraviglioso la sera beh allora che segnale esatto cioè è un è interessante l'esecuzione è terribile ma è interessantissima esatto si 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 è molto interessante come approccio quello che dicevi l'esecuzione però sai che io me lo chiedo effettivamente perché nella doccia e anzi sono piuttosto sicuro che questo sia il futuro perché nella doccia non c'è un phone nel senso tu sei bagnato finisce la doccia tasto pulsante asciuga asciuga non c'è tutto già dentro si è molto molto bello allora esatto io ci vedo un utilizzo di questa perché comunque è molto specifico io non penso che la metti a casa mi sembra più della struttura ricettiva hotel c'è un accessorio di accessibilità in posti dove c'è gente di diverso genere che viene ospitata ecco perché il fatto che si ha dei si abbassi è anche per rendere accessibile a persone magari appunto se le rotelle con difficoltà di motorio eccetera il fatto che abbia uno schermo non ne vedo proprio il motivo a dire la verità potrebbe esserci un tasto perché dovrebbe esserci uno schermo ma che fa questo schermo e ti dice air dryer mettimi lo shampoo no ti farà tanto con le dita bagnate in casino 40% delle volte non lo prendi prendi la scossa prendi la scossa però infatti si ha un'esecuzione orribile però comunque è un bel esatto esatto c'è questi questi progetti qui hanno il vantaggio di aiutare veramente qualcuno in qualche modo e quindi l'esecuzione sta al prossimo al prossimo magari alla prossima iterazione se questo brand avrà fortuna probabilmente ne vedremo altre anche più consumer totale e più raffinate dal punto di vista vedremo quello lì che aveva anche il batterso la doccia la doccia la doccia la doccia la doccia la doccia però secondo me quando arriveranno tipo uno show midi turno che te la semplifica te la fa figlia te la fa veramente con una grande direzione artista quindi con un'idea molto chiara estetica sono degli apripista occhio ai bagni i bagni non sono ancora stati toccati troppo da questi brand occhio ai bagni viva i bagni bello make bagni great again allora andiamo avanti questa l'alluncio io e poi la lascio commentare a te va bene allora notizia questo weekend sull'account google scusami instagram di google appare un post dove google stessa flexava il fatto che le tastiere puoi spiegare flexare che vuol dire esaltava osannava il fatto che le tastiere dei dei loro chromebook quindi dei loro computer non avessero avessero ragazzi i tasti delle lettere con le lettere minuscole adesso fate esempio questo come se stare vedendo al computer guardare il vostro computer e ditemi se effettivamente le vostre tastiere non hanno i tasti maiuscoli cioè le lettere sono tutte in maiuscolo non mi ero mai posto questo problema non mi ero mai accorto in effetti e loro sostenevano che avevano scelto dichiaratamente di fare questa cosa di mettere le tastiere minuscole perché quando tu scrivi al computer la maggior parte delle volte non scrivi una lettera maiuscola ma scrivi una lettera a minuscola però c'è un aspetta finisco la storia che succede sotto al post instagram la gente li riempie di merda ma che cazzo stai dicendo ma comunque può diventare in capsulox schiatti shift eccetera eccetera e quindi la google che ha fatto ha cancellato il post il post non esiste più tuttavia abbiamo recuperato questo articolo su questa specifica cosa dal blog post di google stesso che racconta questo ha fatto qui e perché hanno fatto questa scelta precia bene google ha ragione ha ragione ha perfettamente senso perché appunto quello che vedi su schermo nel più delle volte è minuscolo è più facile che utilizzi il minuscolo del maiuscolo quindi è più corretto fare vedere sulla tastiera quello che è più fedele a quello che vedi sullo schermo cosa che effettivamente è successa sui telefoni perché le tastiere dei telefoni touch erano tutte maiuscolo iphone ha cambiato questa roba qui perché si è resa conta a una certa tipo 5 anni fa ha detto sai cosa tant'è che se dovevi passare da maiuscolo a minuscolo comunque non cambiavano le lettere cioè tu passavi schiacciavi il maiusco però l'anteprima sul pulsante comunque era maiuscolo ti faceva solo vedere che avevi il maiusco acceso effettivamente lo diamo per scontato ma non aveva alcun senso quindi io sono assolutamente d'accordo la cosa bizzarra però è il fatto che hanno deciso di sostituire il tasto maiuscolo completamente e come in cazzo sono serie hanno messo un tasto che si chiama tipo everything key una roba del genere che ti apre il cerca ti apre tutto però posso spezzare una lancia a favore di Google allora Google introduce infatti anche quell'articolo con lo statement che il caps lock su internet vuol dire urlare ho capito ho capito e quindi effettivamente dice ma che cazzo ti serve il caps lock il caps lock è il tasto che ti blocca quindi non è il maiuscolo che quindi tieni premuto e usi la lettera maiuscola come andrebbe scritto ma è un comportamento che loro evidentemente ci tengono davvero a disincentivare o ad educare correttamente cioè se tu scrivi in maiuscolo tutto quanto vuol dire che stai urlando e non lo so la vedi una cosa ragione ragazzo molto molto interessante tante che l'hanno levato poi per Chrome Everything sarà un assistente virtuale sarà un no ti apre il launcher no con tutte le loro cose quindi sarà l'assistente un tasto generale che elimina il ok premo questo tasto e tutto quello che scrivo lo scrivi in maiuscolo perché quel tasto vuol dire io da ora in poi urlo o sto scrivendo il codice fiscale però però vabbè questo vuol dire che se io sul Chrome devo scrivere in maiuscolo devo tenere con la mente premuto ma secondo me ci sarà qualche shot tipo doppio tap la so allora loro hanno tolto allora questo Everything button corrisponde al tasto che abbiamo o il tasto anche sulle tastiere digitali come si chiama il tasto cosa command oppure su Windows il tasto Windows però loro l'hanno messo di qua al posto del maiuscolo e hanno reso l'alt più lungo ah ok ora come faccio a utilizzare il maiuscolo per noi grafici che magari dobbiamo scrivere oh bravo bravissimo esatto esatto dichiaratamente maiuscolo e non dobbiamo cominciare no ci stanno i trasformatori di destra ho capito ho capito stiamo già in una nicchia credete nella magia devi premere sia alt contemporaneamente che quel pulsante lì e si blocca no 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 devi tenerlo premuto devi tenerlo premuto no allora secondo me non lo so è vero 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 è così è così è così lo schiacci alt shift everything button ti appare un toast ti appare un avviso e ti dice si chiama toast ti appare un avviso ti appare un avviso te lo mangi ti appare un avviso e dice guarda il maiuscolo è attivato allora ora è super scomodo però questo è estremamente logico effettivamente anche sull'iPhone non ce l'hai sull'iPhone non c'è il caps lock c'è il doppio tap del maiuscolo è vero è vero è vero è la stessa cosa invece quelli là i leoni da tastiera mettono il capsule e scrivono questo video mi fa scherzo certo non scriverlo ok però tu stai dicendo il computer si usa solo per andare su internet cosa più o meno per Google si vero infatti però è un Chromebook ok tu dici non ci fai design questo coso è un Chromebook non ci fai niente è uno strumento è uno strumento è uno strumento schiacci in shift lo metto il documento tasto destro trasforma maiuscole ma che stai dicendo vabbè questo po' va bene e poi ti ho insegnato un'altra cosa ricordiamoci parlate tutti di uno sopra l'altro ricordiamoci che comunque l'intelligenza artificiale di Google tecnicamente l'intelligenza dei computer rende in automatico le maiuscole ogni volta che va a capo ogni volta che finisci là quindi nella loro visione della cosa è una visione estremamente corretta secondo me disincentivare il maiuscolo e poi mi piace la lettura del urli e basta urli e basta che ne pensate ha senso questa roba infatti sì questo è proprio opinionismo quindi opinionate opinionate come evento vi pare molto figo che abbiamo coperni allora bellissimo bellissimo cioè io lo sapete che amo questo genere di prodotti totalmente inutili se non dimostrazioni che si può fare quindi lo facciamo coperni che è un brand di abbigliamento di fashion francese ha deciso di collaborare coperni non lo so come si dice scriveteci la pronuncia in DM su Instagram ha fatto una borsa fatta il 99% di aria e l'1% di vetro come dite l'italiano di vetro il materiale utilizzato per la parte d'aria è il oddio il non mi ricordo come cazzo si chiama di che cosa del vetro aerogel si chiama aerogel ed è un materiale appunto composto totalmente d'aria questo materiale mi tu ti starai chiedendo Giuliano ma non era meglio farlo tutto di vetro a questo punto visto che l'esterno è in vetro no perché questa borsa comunque ha un materiale ed è l'aerogel che è incapsulato in questa confezione in vetro l'aerogel è un materiale che si utilizza in nello spazio esatto è un materiale appunto che non viene utilizzato per dei prodotti normalmente ma è utilizzato attualmente come isolante fondamentalmente nello spazio perché è fatto totalmente d'aria è fatto totalmente d'aria e quindi isola molto bene il calore perfetto quindi è un materiale tecnico fondamentalmente difficoltà nasa level esattamente la borsa la borsa pesa 33 grammi chiesa tipo 4 penne di pasta ed è molto bello perché appunto c'è tutta questa dietrologia poi perché l'hanno fatto perché è fatto della stessa sostanza dei sogni almeno che è figo cioè è una di quelle cose che dici perché lo dobbiamo fare perché possiamo farlo e basta io contesto solo una cosa contesto solo una cosa la forma è una forma iconica del borsa Walkman esatto allora il progetto è fighissimo ma il coperni sarà magari lusso non lo so dove è posizionato ma perché hanno fatto le foto con un iphone 4 mi fa sembrare un leak dai è molto bello perché appunto non riesci a capire come è fatto sembra una borsa fatta di una nuvola però questo è molto bello perché in realtà vedi sembra quasi due dilmat cioè è così strano io vorrei tanto vedere che sembra non abbia una tridimensionalità vorrei tanto vedere quanto è delicato perché per pesare per pesare 33 grammi vuol dire se sono 33 grammi di vetro che comunque è poco cioè è veramente poco infatti quando ho letto il 99% are è un percento vetro per 33 grammi cazzo cioè chi l'ha fatta questa cosa è magia nera è veramente magia nera è molto bello state attenti che l'aria è il materiale del futuro ve lo dico vi sto anticipando una cosa ve lo dico qua l'aria comunque sottovalutata per fare le cose stai tirando acqua al nostro mulino acqua al nostro mulino stai lanciando uno svapo no assolutamente no comunque è molto bello complimenti a Coperni invito altri brand di moda a fare cose esatto pazze che mo' non serve però vedi la reazione della gente come lo dice la gente a una borsa di 33 grammi va bene finiamo con un meme breccia ti prego dacci questo però voglio che tu le ne parli come abbiamo scoperto prima ho visto sto meme qua non so riuscito a trovare l'originale se mi dai un secondo lo trovo vabbè fondamentalmente Biden comunica su qualcuno per Biden comunica su Twitter per parlare di una situazione utilizza questo mock up di un telefono che non esiste ma non solo non solo non esiste non è non so non so che dire però sai più lo guardi più fa schifo hanno poi interaccordato il notch al lato anche questo qua manca un lato è un trigger in realtà anche questo qua possiamo fare cose che non esistono non ti salverai così la cosa molto bella che ti scrive la prima con breccia è che effettivamente io stai c'era anche lui ieri abbiamo interfacciato questa notizia prima dal meme e poi la notizia perché tipo Figma aveva fatto un post come fare gli angoli però non c'è più non c'è più sul loro Figma sul loro Instagram comunque in ogni caso non si sa perché cioè totalmente senza motivo tant'è che tutti su su Twitter hanno commentato la notizia ma che cazzo della informazione tuttora non so che c'è scritto la sopra non mi interessa non mi interessa quello che c'è scritto dentro la creatività di chi ha fatto questa roba qui ha detto non metto un iPhone metto un iPhone smusserò smusserò questo iPhone fino all'estremo è bello allora bellissima bellissima storia sembra un pollice sembra il pollice di Mastrota ah benissimo ragazzi questa cosa adesso vi consiglio di andare a vedere tutti quanti in questo momento la pagina Instagram di Mastrota che rimarrete a bocca aperta non aggiungo altro basta ragazzi è posto così questa settimana abbiamo finito niente vi ricordiamo di iscrivervi al canale come cita questa bella targhetta noi siamo Riccardo Giuliano e Nanni abbiamo un podcast che è stato ascoltando se volete andare nel retrobottega ho trovato i poster e tutte le nostre cose assolutamente noi ci vediamo su Instagram ciao 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 ciao